Nessuna variazione delle tariffe del canone unico per il 2024 ha trecate. Lo hanno comunicato il sindaco Federico Binatti con l'assessore al commercio Rosa Criscuolo e l'assessore al bilancio e tributi Antonio Baraggini. Abbiamo deciso di mantenere inalterato il canone unico per l'occupazione di suolo pubblico utilizzato per deore e analoghe strutture di tipo permanente. Va tra l'altro ricordato che già per il 2023... Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.